bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo che il fine del mio canale e dei miei video è sempre quello di denunciare diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie allora amici oggi vi parlo dell'assurda e triste storia di rené madsen ma ve lo dico già non siete pronti dovete prepararvi ma prepararvi davvero perché non solo è una storia a dir poco assurda ok anche quello ma più che altro è una storia che vi farà arrabbiare veramente tanto cioè vi arrabbierete per il caso in sé vi arrabbierete per l'epilogo vi arrabbierete diverse volte nel corso di questo video quindi preparatevi già da adesso prendete una pallina antistress fatevi una camomilla insomma qualsiasi cosa vi serva per favore perché perché questo perché vi chiederò di essere gentili nei commenti sarà difficile sappiatelo però vi chiedo di impegnarvi per favore prima di cominciare però amici voglio ringraziare lo sponsor del video di oggi cambli è ufficialmente arrivata l'estate e scommetto che molti di voi stanno iniziando ad andare in vacanza o comunque ci pensano pensano a quando andranno in vacanza e che ne dite di sfruttare proprio quei momenti di calma per imparare cose nuove che ne dite di portare con voi invece dei soliti libri da ombrellone cambli tanto vi basta avere un cellulare e potete portarvelo sempre con voi cambli è una piattaforma di e-learning che consente di fare lezioni individuali di inglese online è disponibile sia su pc sia come app sul cellulare e puoi scegliere tra migliaia di tutor da tutto il mondo con personalità interessi e professioni diverse ma la grande novità è che da oggi su cambli è presente cam ai ovvero un sistema di intelligenza artificiale conversazionale che emula una vera conversazione con un tutor preparando l'utente alla sua prima conversazione con un tutor umano l'esperienza cam ai consente agli utenti di praticare facilmente l'inglese senza la barriera del costo perché è completamente gratis o della paura o dell'ansia di parlare con un insegnante madrelingua inglese ovviamente cam ai vi correggerà quando farete degli errori fornendovi tutti gli strumenti per parlare con sicurezza e inoltre gli utenti potranno rivedere le loro pratiche con cam ai quando lo desiderano finché non si sentiranno proprio agio nel parlare con un tutor cambli in carne e ossa cambli ha dei prezzi imbattibili rispetto ad altre scuole d'inglese tradizionali e con il mio codice sconto true crime 07 avrete inoltre il 50 per cento di sconto sugli abbonamenti annuali e 15 minuti di lezione gratuita così da fare una prova vi lascio il link come sempre sotto nell'info box del video prego non c'è di che e ora amici torniamo al caso di oggi oggi vi parlo del triste caso di rené madsen rené nasce il 15 ottobre 1992 in un sobborgo di sydney in australia e i suoi genitori sono teresa e jamie quando rené ha soli due anni i suoi genitori si separano e dopo qualche anno sua mamma teresa incontra un altro uomo di nome mark madsen di cui si innamora e con cui si sposa mark va a vivere insieme a loro e cresce rené come se fosse sua figlia il padre biologico di rené diciamo che sparisce nel senso che per tutto il resto della storia di lui non si parla non si sa nulla quindi rené considera mark suo padre a tutti gli effetti infatti crescendo decide anche di prendere il suo cognome chiamandosi ufficialmente rené madsen teresa e mark insieme fanno altri tre figli due maschi di nome luke e jake e una femmina di nome monique e rené è felicissima di essere una sorella maggiore si prende cura dei suoi fratellini ed è fantastica in questo tutti raccontano di quanto rené sia una persona piena di vita sempre allegra che ride scherza ed è molto socievole rené ha un rapporto a dir poco speciale anche con sua mamma teresa la considera la sua migliore amica e le racconta tutto per lei la famiglia è tutto infatti dice sempre che la famiglia è la cosa più importante tutto il resto viene dopo addirittura pensate per farvi capire quanto siano legate lei e sua madre un anno nel giorno della festa della mamma rené si presenta a casa con un tatuaggio una scritta lungo tutto il suo fianco che dice la vita è bella grazie a te mamma all'età di 13 anni rené conosce una ragazza di nome camilla zeidan le due vanno a scuola insieme e da quando fanno amicizia diventano inseparabili fanno tutto insieme gli anni passano e rené continua la sua vita da adolescente anche se il suo comportamento cambia un po e i suoi genitori lo notano rené che era sempre stata una ragazzina a modo che prendeva buoni voti e che era sempre tranquilla inizia a fare cose come fumare sigarette o passare tutto il suo tempo con camilla isolandosi da tutti gli altri amici che aveva compresa sua cugina stefani con cui era sempre stata molto legata i suoi genitori quindi notano questi comportamenti però allo stesso tempo sono coscienti del fatto che rené stia attraversando l'adolescenza e non voglio assolutamente sminuire i campanelli d'allarme che possono presentarsi in un adolescente però ecco la mamma di rené non dà troppo peso a queste cose perché in realtà non è così strano che una ragazza cambi un po durante l'adolescenza o che diventi più nervosa o che si isoli con la sua migliore amica del momento insomma l'adolescenza è un periodo delicato e complesso in cui oltretutto si sperimentano molte cose e alla fine comunque rené rimaneva quella ragazza sorridente che parlava di tutto con sua madre quindi teresa sua mamma è convinta di doverle lasciare i suoi spazi di dover comprendere la sua evoluzione ma non può fare a meno di pensare che parte di questi cambiamenti siano dovuti alla vicinanza con la sua amica camilla l'amicizia tra rené e camilla è sicuramente un po burrascosa diciamo le due spesso litigano poi fanno pace e teresa prova anche a parlare con rené dicendole che secondo lei avrebbe dovuto allontanare camilla non era una buona amica per lei e voglio dire solo una cosa quando si è giovanissimi tipo appunto durante l'adolescenza non si sa cioè io non sapevo come scegliermi gli amici cioè ricordo che mi sentivo in dovere di essere amica di chiunque cioè di chiunque io avessi attorno anche se magari non mi trattavano benissimo o non eravamo compatibili o non mi capivano penso che tantissime persone giovanissime cadano in questa trappola ed è normale credo perché si impara col tempo che va bene lasciare andare le persone che non ci fanno stare bene e che va bene anche avere pochi amici ma buoni e anche lì mia madre me lo poteva dire anche 200 volte che quella mica l'amica x non era buona per me avrei dovuto allontanarla ma secondo voi io l'ascoltavo no anzi facevo il contrario ecco rené probabilmente è in quella fase lì sa di dover allontanare camilla perché comunque era troppo invadente era troppo controllante con lei ma allo stesso tempo poi ricominciava ad uscirci e non riusciva a separarsene nel 2009 per esempio rené si allontana da lei rené non vuole più essere amica di camilla e nello stesso anno si iscrive ad un corso per diventare una parrucchiera cosa che le piace fare da matti è il lavoro che vorrebbe fare ma poco dopo anche camilla si iscrive allo stesso identico corso quindi le due ricominciano a frequentarsi durante questo corso e alla fine tornano a essere amiche insomma fanno pace sempre durante il 2009 mentre rené sta facendo questo corso incontra un ragazzo di nome angus che entra nel negozio di parrucchieri in cui rené stava facendo pratica e si invaghisce di lei all'istante inizia infatti ad andare a farsi capelli tipo ogni settimana solo per poter vedere e parlare con rené e ad un certo punto i due iniziano a frequentarsi iniziano una vera e propria relazione la prima relazione seria di rené rené e angus stanno benissimo insieme sono tenerissime addirittura lui racconta di aver scherzosamente fatto un contratto d'amore con rené in cui avevano scritto che si sarebbero sposati avrebbero preso un cane un labrador e avrebbero fatto quattro figli insieme e avevano entrambi firmato questo contratto d'amore insomma le cose tra loro vanno a gonfie vele eppure c'è una persona che non è contenta di questa relazione a qualcuno angus non piace proprio e quel qualcuno è camilla a camilla non piace angus per diverse ragioni prima di tutto non sopporta che la sua amica rené che prima passava tutto il tempo con lei adesso passi tutto il tempo con questo ragazzo si sente messa da parte e seconda cosa angus non le piace perché secondo lei voleva solo usare rené cioè voleva solo portarsela a letto e poi voleva lasciarla e passare alla prossima ragazza secondo camilla angus lo aveva addirittura ammesso ad un amico in comune che poi lo aveva riferito a camilla aveva ammesso appunto di voler usare rené quindi lei mette in guardia la sua amica rené dicendole di lasciarlo non era il bravo ragazzo che lei pensava camilla è molto insistente e persuasiva e alla fine rené le crede e finisce per lasciare angus e senza neanche dargli troppe spiegazioni cioè lo molla quasi da un giorno all'altro lui è confuso non capisce cosa sia successo non capisce perché rené lo abbia lasciato in quel modo ma ovviamente non può fare altro che farsene una ragione e rispettare la sua scelta ma in concomitanza con questa rottura camilla dice a rené amica non preoccuparti ce l'ho io il ragazzo per te camilla vuole presentare alla sua amica un ragazzo di nome brayden spiteri che era un suo ex fidanzato o comunque un ragazzo con cui camilla era uscita in passato ma con cui non aveva funzionato e quindi voleva diciamo riciclarlo e farlo conoscere a rené perché secondo lei sarebbe stato perfetto per rené camilla mostra all'amica una foto in cui lei e brayden sono insieme e sorridenti e inizia a parlarle di lui brayden spiteri è un ragazzo di 24 anni di bell'aspetto viene da una buona famiglia e frequenta una delle scuole più esclusive dell'australia c'era solo un piccolo problemino brayden era in carcere camilla spiega a rené che solo pochi giorni prima brayden stava andando in moto insieme al suo migliore amico e aveva avuto un brutto incidente purtroppo in questo incidente il suo migliore amico aveva perso la vita brayden quindi era stato accusato di un video colposo ed era stato condannato a due anni di prigione in quel momento quindi si trovava in prigione una prigione a circa due ore da sydney ma camilla dice anche a rené di non preoccuparsi che il tempo sarebbe passato molto in fretta e soprattutto sarebbe sicuramente uscito molto prima di due anni anche perché grazie al suo avvocato un avvocato molto bravo che poteva permettersi perché come già detto era di buona famiglia era riuscito a fare una sorta di accordo una sorta di patteggiamento per cui aveva rinunciato al diritto di ricevere visite in carcere in cambio di una sentenza ridotta sempre grazie al suo avvocato aveva inoltre ottenuto un cellulare che poteva tenere con sé in cella un cellulare con cui però poteva solo mandare dei messaggi brayden non poteva telefonare non poteva videochiamare poteva solo mandare messaggi di testo e la ragione di questa cosa è che questo cellulare glielo aveva fatto avere il suo avvocato però non era proprio legale che lo tenesse con sé in cella quindi diciamo che non poteva proprio attirare l'attenzione parlando al telefono rené è attratta da tutta questa situazione questo brayden le piace le piace esteticamente e accetta il suo numero di telefono e inizia a messaggiarci le piace l'idea di tenerli compagnia di stargli vicino in un momento della sua vita sicuramente molto difficile e traumatico rené e brayden iniziano quindi a messaggiare e messaggiano tutto il giorno tutti i giorni e dopo un po iniziano a sviluppare dei sentimenti romantici l'uno verso l'altra nonostante non si fossero mai visti di persona rené non poteva neanche andarlo a visitare in carcere perché come vi ho detto lui aveva rinunciato al diritto di avere visite per poter uscire prima dopo un po rené ne parla a sua mamma come vi dicevo lei e teresa sono molto unite quindi le racconta di questo nuovo ragazzo brayden teresa però lì per lì non è esattamente entusiasta della cosa questo brayden era più grande era in carcere la figlia non l'aveva neanche mai visto insomma diciamo che non ha proprio fatto i salti di gioia quando rené gliene ha parlato però vale sempre lo stesso discorso di prima teresa le dice di stare attenta ma cerca anche di essere comprensiva cerca di rispettare le sue scelte e inoltre non l'aveva mai vista così felice rené parla a brayden delle preoccupazioni di sua madre al che brayden decide lui stesso di tranquillizzare la signora brayden grazie a quel cellulare che aveva in carcere aveva accesso anche ad un profilo facebook il suo profilo facebook e così contatta teresa scrivendole parole rassicuranti insomma dicendole di non preoccuparsi che avrebbe trattato bene sua figlia che ci teneva tantissimo lei e che era la cosa migliore che gli fosse mai capitata al che teresa cerca di tranquillizzarsi questa relazione tra sua figlia e brayden continua e a questo punto possiamo proprio parlare di relazione rené e brayden hanno una relazione a distanza e iniziano a parlare di cose serie cioè parlano di matrimonio quando brayden esce di prigione i due vogliono sposarsi camilla la migliore amica di rené in tutto questo è stranamente felice di questa relazione cioè a lei non andava mai bene nessuno qualsiasi fidanzato o amico o amica di rené non venivano mai approvati da camilla ma brayden sì anzi addirittura un giorno lei stessa suggerisce a rené di tatuarsi il suo nome addosso come aveva fatto per sua madre e lei lo fa si tatua b spiteri sul lato destro del petto ma nonostante rené vivesse letteralmente per brayden a lui non bastava brayden inizia ad essere molto geloso e insicuro è convinto che rené lo tradirà o incontrerà un altro uomo in carne ed ossa dato che comunque i due non si erano mai visti e quindi cosa fa brayden inizia ad essere controllante persino a distanza la riempie di messaggi in tutti i momenti e comunque la fa spesso sentire in colpa soprattutto quando esce da sola con le sue amiche un capodanno per esempio capodanno del 2012 rené deve uscire a festeggiare con sua cugina stefani e per l'occasione indossa un vestito rosso un po un po scollato un po corto insomma un vestito per andare a fare serata rené si sente giustamente una gran gnocca con quel vestito quindi si fa delle foto e le manda a brayden aspettandosi dei complimenti ma invece di tutta risposta lui inizia ad insultarla inizia a sminuirla le dice che con quel vestito addosso sembra una poco di buono le dice che si era vestita così solo per farsi vedere dagli altri uomini e che di conseguenza lo avrebbe tradito e le manda questo genere di messaggi per tutta la sera brayden è particolarmente geloso dell'ex fidanzato di rené angus ve lo ricordate ecco praticamente angus ad un certo punto manda un messaggio a rené dicendole di amarla ancora di non riuscire a dimenticarla e che la vuole rivedere rené però non non vuole tradire la fiducia di brayden quindi gli risponde di no e confida alla sua amica camilla di aver ricevuto questi messaggi camilla è inorridita alla notizia dice a rené di smettere immediatamente di parlare con angus perché facendo così stava tradendo brayden e dopo neanche un paio di ore brayden viene a sapere la cosa ovviamente tramite camilla e sommerge rené di messaggi poco piacevoli brayden inizia a far sentire in colpa rené per qualsiasi cosa in modo costante e purtroppo lei cade con tutte le scarpe in questa trappola emotiva e si sforza sempre di più di non deludere brayden di non farlo arrabbiare e di conseguenza cosa fa esce sempre meno socializza sempre di meno l'unica persona che vedeva era camilla e ogni tanto sua cugina stefani ma spesso passava intere giornate a casa messaggiando con brayden e sua madre vedendo questa cosa si preoccupa sempre di più prova a parlarle a farla ragionare le dispiaceva troppo vedere sua figlia sprecare tutto quel tempo della sua giovinezza dietro ad un tizio che non l'aveva mai vista e si sentiva anche in diritto di trattarla come uno straccio ma brayden non riserva questo trattamento solamente a rené attenzione fa l'arrogante persino con sua madre una volta infatti siamo nell'aprile del 2012 sua madre teresa aveva messo un like mi piace ad un post su facebook un post un post divertente stupido pubblicato da angus l'ex fidanzato di rené e quando brayden vede questa cosa va fuori di testa letteralmente manda subito un messaggio a teresa dicendole che non doveva permettersi di mettere like ai post di angus le dice proprio ma che madre sei che interagisci con l'ex fidanzato di tua figlia oddio e oltretutto sapete come aveva fatto a vedere questa interazione brayden aveva la password dell'account facebook di rené lei gli aveva dato le sue credenziali e lui giornalmente entrava nel suo profilo e controllava tutto quello che faceva teresa è sconvolta da quel messaggio non tanto dai toni spiacevoli ma dalla presunzione cioè un ragazzo che non si faceva scrupoli a trattare in questo modo la madre della sua ragazza figuriamoci come doveva trattare lei inoltre chiaramente tutto questo controllo tutta questa ossessione di brayden nel dover controllare qualsiasi mossa della figlia era una chiara e forte bandierina rossa infatti teresa le parla una volta per tutte e la fa ragionare e infatti a maggio di quell'anno 2012 rené si rende conto di non voler continuare quella storia e lo comunica a brayden gli dice che gli sarebbe rimasta amica si sarebbero potuti sentire qualche volta per fargli compagnia ma nulla di più ma purtroppo amici che ve lo dico a fare ne abbiamo viste tante di relazioni tossiche e questa è sicuramente un esempio e come sapete uscirne e lasciarle andare è veramente difficile purtroppo rené rimane in contatto con brayden sempre con la speranza di poterlo vedere dal vivo un giorno cioè perché lei aveva secondo me questa è una mia teoria secondo me ha pensato che brayden si comportasse così perché si trovava in prigione cioè secondo me rené si è convinta che lo stare in prigione isolato da solo per tutto quel tempo lo rendesse irascibile controllante scontroso insicuro probabilmente pensava che quando si sarebbero visti dal vivo le cose sarebbero state diverse lui sarebbe stato diverso e al suo rilascio a quanto pare mancava ormai pochissimo perché ad agosto 2012 brayden con il suo avvocato richiedono la libertà vigilata e la ottengono quindi brayden poteva uscire di prigione in anticipo e lo fa esce di prigione ma prima ancora di riuscire ad incontrarsi con rené brayden si mette nuovamente nei guai un giorno infatti ha un brutto litigio con suo padre che lo denuncia per aggressione di conseguenza in men che non si dica brayden torna dietro le sbarre e neanche un mese dopo questo avvenimento succede qualcosa rené prende dei farmaci non si sa quali farmaci fatto sta che ne prende troppi e va in overdose rené va in un overdose leggera diciamo nel senso che da quello che ho letto ci mette tre giorni ad andare all'ospedale racconta che dopo aver preso questi farmaci aveva iniziato a sentirsi poco bene di stomaco non riusciva a mangiare e non riusciva neanche a bere senza sentirsi male e dopo appunto tre giorni era andata al pronto soccorso ma ha sempre dichiarato di non aver tentato di togliersi la vita quello overdose secondo rené era stata un errore semplicemente aveva esagerato con le dosi di farmaci e nonostante gli ultimi mesi fossero stati molto pesanti per lei ribadisce di non aver tentato di farsi del male e di essere felice di essere in vita a questo punto comunque la relazione tra rené e brayden continua ad essere diciamo in pausa anche perché lui è tornato in prigione e ci sarebbe rimasto anche per un po di tempo quindi la speranza di rené di vederlo dal vivo presto inizia a svanire i due ogni tanto si sentono ma rené a questo punto è determinata ad andare avanti con la sua vita e infatti inizia a frequentare un suo collega di lavoro di nome ian sua madre teresa è finalmente felicissima di questa cosa perché ian sembrava un bravo ragazzo un ragazzo normale che non era in galera che era in carne e ossa ma purtroppo questa calma apparente non dura brayden ben presto scopre della nuova frequentazione di rené e inizia a perseguitarlo inizia a perseguitare ian in qualche modo brayden aveva trovato il numero di ian e aveva iniziato a messaggi molto aggressivi e minacciosi intimandogli di stare lontano da rené perché rené era sua all'inizio ian e rené tentano di ignorare la cosa e continuano la loro frequentazione infatti a gennaio 2013 ian fa la proposta di matrimonio a rené le chiede di sposarlo e lei accetta ma i messaggi di brayden continuano la sua presenza è angosciante nella loro vita e come già detto ian è un ragazzo normale tranquillo non è abituato a ricevere messaggi da parte di un galeotto che lo minaccia di morte se continua a uscire con una ragazza e di sicuro non ha voglia di avere questo genere di problemi di conseguenza dopo un po di tempo a marzo 2013 ian parla con rené e le dice di non sopportare più quella situazione e le dà un ultimatum doveva scegliere o ian o brayden e purtroppo amici rené sceglie brayden lo so lo so la loro relazione burrascosa a distanza quindi continua ma a rené chiaramente inizia a pesare un po troppo il fatto di non avere neanche nulla di brayden non lo aveva mai visto non aveva sue foto pensate che l'unica foto in cui si vedeva bene la sua faccia era quella che brayden aveva insieme a camilla e basta brayden chiedeva spesso a rené delle sue foto soprattutto foto di nudo che lei gli mandava e lui per per ricambiare le aveva mandato qualche volta delle foto in cui si vedeva il suo petto i suoi muscoli ma non la sua faccia rené allora inizia a chiedergli qualcosa di più voleva parlare con lui o parlare col suo avvocato dato che spesso la sua amica camilla ci parlava da quello che diceva lei ma brayden rifiutava sempre rené però insiste brayden tempo prima le aveva detto di aver messo tutte le sue cose i suoi effetti personali in un magazzino fino al suo rilascio dalla prigione allora lei gli chiede di poter avere la chiave di quel magazzino così da poter andare lì e prendere qualcosa di suo ma voleva una felpa una t-shirt qualcosa di suo da stringere tra le mani dato che non poteva stare insieme a lui ma brayden le risponde di no assolutamente no addirittura dopo un po di insistenza da parte di rené brayden le aveva risposto che se non avesse smesso di insistere allora lui avrebbe fatto andare lì qualcuno e avrebbe fatto vendere tutto quello che c'era dentro quel magazzino solo per ripicca per farla stare zitta e dopo qualche altra uscita del genere rené che si rende conto finalmente di non essere un pungible oh guarda non sono un pungible scrive a brayden che le cose proprio non stavano andando e che forse era meglio lasciarsi definitivamente ma brayden che si rende conto di aver esagerato opta per una buona dose di love bombing mandandole diversi messaggi di scuse con su scritto che l'amava che gli aveva cambiato la vita e che gli dispiaceva di averla trattata male e che per lui la vita in prigione era difficile e le chiedeva di avere solo un po di pazienza in più ma le promette che sarebbe cambiato rené gli risponde che per dimostrarle che sarebbe davvero cambiato allora doveva darle la chiave di quel magazzino ma brayden le risponde che il motivo per cui non voleva darle questa chiave è che non era pronto ad affrontare quello che il magazzino conteneva che non ha neanche senso perché è lei che sarebbe dovuta andare nel magazzino non lui ma comunque lui le risponde così e rincara la dose dicendole che si sentiva come se lei non si fidasse di lui per questo si arrabbiava così tanto ovviamente era colpa di lei se lei si fidava di lui allora doveva smettere di chiedergli questa chiave del magazzino rené purtroppo si fa andare bene quella risposta ingoia questo rospo e va avanti e tutta questa storia viene dimenticata quando qualche mese dopo brayden inizia a parlarle seriamente di matrimonio cioè le chiede proprio di iniziare a organizzare il loro matrimonio perché lui a ottobre sarebbe uscito di prigione e l'avrebbe sposata brayden promette a rené che entro il suo ventunesimo compleanno appunto ad ottobre lui sarebbe uscito rené non sta nella pelle e inizia a organizzare tutto si rivolge ad un fotografo inizia a cercare l'abito chiaramente però brayden non cambia né migliora e il suo bisogno di controllare rené aumenta e aumenta così tanto da pretendere che lei non esca più di casa dovete sapere che a questo punto rené aveva iniziato a lavorare in un posto nuovo e di conseguenza aveva nuovi colleghi con cui a volte passava il suo tempo libero e questo dava incredibilmente fastidio a brayden che le vieta di vederli e ogni giorno le chiede come aveva passato la giornata e se lei mentiva a lui in qualche modo lo veniva a scoprire un giorno per esempio rené gli aveva detto di essere rimasta a casa tutto il giorno ma lui sapeva che quella era una bugia sapeva che rené era andata in palestra quel giorno in palestra e questo perché come lui stesso confessa la teneva ad occhio tramite il gps del suo cellulare non lo so probabilmente aveva la password del suo trova il mio iphone e quindi forse riusciva a vedere i suoi spostamenti non è chiaro comunque lui sapeva sempre tutto la teneva sotto controllo sempre e ogni volta che rené arrivava al limite della sopportazione lui se ne usciva sempre con qualche scusa strappalacrime e in qualche modo riusciva a convincerla a dargli un'altra possibilità chiedendole di aspettare fino al suo rilascio e di non sprecare tutto quel tempo quell'anno e mezzo che avevano passato insieme tra virgolette la data del rilascio di brayden però non era ancora stata decisa tutto dipendeva dall'udienza di luglio 2013 brayden infatti dice a rené che luglio sarebbe stato un mese molto importante e decisivo per il suo rilascio di conseguenza le dice è meglio che io mi liberi di questo cellulare per tutto il mese di luglio fino all'udienza perché non si sa mai quindi i due per un mese non si possono sentire e dovete sapere che verso fine giugno rené si allontana anche dalla sua amica camilla la loro amicizia era sempre stata burrascosa come vi avevo detto e anche camilla nel mese di luglio non sarebbe stata vicino a rené nel senso che aveva organizzato una vacanza studio negli stati uniti quindi rené passa il mese di luglio senza persone tossiche accanto si può dire così perché non c'era camilla non c'era brayden e in questo tempo si rende conto di quanto l'amicizia con camilla non le facesse bene camilla non era mai stata una buona amica anzi in diverse occasioni aveva trattato proprio male rené era controllante aveva cercato di allontanare rené da tutti quelli a cui teneva da sua madre da sua cugina stefani dal suo ex fidanzato angus era incredibilmente possessiva se rené socializzava con qualcun altro camilla arrivava proprio ad insultarla pensate che la cugina di rené stefani racconta che una volta lei e rené si trovavano in macchina insieme e racconta che il telefono di rené aveva iniziato a suonare ed era camilla che la chiamava per chiederle dove fosse con chi fosse ma il problema è che in 15 minuti che era la strada che dovevano percorrere in macchina camilla aveva chiamato rené 16 volte stefani racconta che camilla era ossessionata da rené ma allo stesso tempo era aggressiva con lei la voleva soltanto per sé e se rené l'allontanava lei reagiva malissimo racconta che una volta l'aveva addirittura presa per i capelli l'aveva aggredita fisicamente stefani racconta anche un'altra cosa racconta che rené le aveva confidato una volta che in diverse occasioni camilla aveva tentato di baciarla aveva tentato un approccio sessuale con lei e pare che rené ad un certo punto abbia ceduto all'insistenza dell'amica e abbia ricambiato queste attenzioni pare che le due abbiano avuto una breve esperienza insieme ma poi era finita lì rené era stata chiara dicendole che a lei piacevano gli uomini e ad un certo punto erano state coinvolte persino le loro mamme rené e camilla si erano incontrate in un bar con le rispettive mamme proprio per chiarirsi teresa aveva detto chiaramente a camilla e a sua madre che non voleva che le loro figlie uscissero insieme perché camilla non era una buona influenza per rené e durante quell'incontro rené ad un certo punto addirittura si era alzata dalla sedia ed era andata via ma camilla l'aveva seguita l'aveva afferrata per un braccio e l'aveva pregata di non interrompere la loro amicizia e successivamente le aveva mandato una mail a dir poco inquietante con su scritte queste testuali parole se mi uccidi sarò il tuo fantasma se mi odi io ti amerò comunque tu ti nascondi io ti cercherò non puoi scappare da nessuna parte perché solo io ti amo o ti voglio bene e ti avrò per sempre ecco quel mese lontano da camilla fa capire a rené di doversi allontanare da lei definitivamente infatti lo comunica alle amica e le scrive un messaggio con su scritto che la loro amicizia era finita basta ed è a questo punto che si apre anche con sua mamma raccontandole tutto quello che camilla le aveva fatto le racconta di quando le aveva messo le mani addosso le racconta di tutti gli abusi subiti ma soprattutto c'era un episodio in particolare che l'aveva spaventata e che non aveva mai avuto il coraggio di raccontare fino a quel momento rené racconta a sua mamma che un giorno era alla guida ed era in macchina insieme a camilla le due avevano iniziato a litigare e camilla aveva preso il volante della macchina e aveva sterzato all'improvviso come se volesse far andare la macchina fuoristrada rené scrive anche una lettera a brayden dato che non potevano scambiarsi messaggi di testo in quel mese e in quella lettera gli scrive questo vi leggo alcuni stralci non vedo l'ora di stringerti spero presto questo tempo passato lontani mi ha fatto realizzare che litighiamo per cose stupide e non ha senso ti amo tantissimo e non ti lascerò mai andare non riesco a stare senza di te sei la mia roccia il mio eroe il mio tutto ti amerò per tutti i giorni della nostra vita e poi gli scrive anche di camilla gli scrive che aveva allontanato camilla dalla sua vita e che si sentiva finalmente felice felice di averlo fatto ma dopo un po' esattamente il 13 agosto 2013 rené riceve un messaggio completamente inaspettato era brayden che la scaricava brayden le scrive un messaggio dal nulla con su scritto ho bisogno di una pausa e anche tu quel giorno rené torna a casa sconvolta e si chiude subito in camera sua sua madre ovviamente nota che c'è qualcosa in sua figlia che non va ma quando le chiede rené le risponde di non preoccuparsi che andava tutto bene teresa sa che non è così ma le lascia il suo spazio convinta che sarà rené a parlargliene quando sarà pronta ma ad un certo punto le arriva un messaggio da brayden brayden scrive a teresa questo messaggio qua metti a posto tua figlia perché minaccia di togliersi la vita allora teresa va nella stanza di rené e la trova che si stava cambiando aveva indossato un vestito nero con delle ballerine nere si era aggiustata al trucco si stava legando i capelli teresa quindi le mostra il messaggio che brayden le aveva mandato e le chiede devo preoccuparmi cioè perché mi ha scritto questa cosa e rené risponde no mamma non preoccuparti non devi più preoccuparti di lui ho appena scoperto com'è veramente non preoccuparti più di lui perché tra noi è finita teresa quindi è un po più tranquilla e le chiede dove stia andando e poi le dice anche di sciogliersi i capelli perché aveva dei capelli bellissimi ed era un peccato legarli ma rené le risponde che stava andando ad una cena molto semplice con i suoi colleghi quindi voleva stare comoda e le ribadisce di stare tranquilla e le dice che sarebbe tornata a casa entro le nove e mezza e lo so che da noi in italia si cena alle nove e mezza ma in australia cenano prestissimo tipo alle 5 del pomeriggio questo mi è stato confermato da tutti i miei amici che vivono lì se qualcuno di voi mi guarda da lì confermerà nei commenti comunque tornando alla storia rené esce di casa e dopo un po alle 5 49 alle 17 49 teresa riceve un messaggio a dir poco strano da parte di rené il messaggio diceva ti amo così tanto mi dispiace per tutto e per il dolore che ti causerò ma andrà tutto bene sarò ancora qui quando avrei bisogno di parlare con me chiama il mio nome e sarò lì sei la persona e la madre migliore del mondo e la mia migliore amica non ero felice e ho bisogno che tu lo capisca non lasciare che questo ti rovini tutto devi prenderti cura di te ho bisogno che tu sia forte ti amo mamma e ti amerò per sempre ti aspetterò fino a quando non mi raggiungerai teresa ovviamente si allarma all'istante e inizia a chiamare ripetutamente sua figlia ma senza successo perché rené non risponde di conseguenza teresa chiama la polizia degli agenti si presentano poco dopo a casa sua e sono anche loro allarmati da questo messaggio quindi danno subito l'allarme e iniziano a cercarla nel frattempo teresa sente tutte le amiche di rené compresa camilla chiedendole se sapesse dove si trovava sua figlia camilla risponde di non saperlo ma dice che anche a lei aveva mandato un messaggio strano con scritto che le voleva bene e le chiedeva scusa e le diceva addio ma dato che le due avevano litigato e si erano comunque dette addio a camilla cioè quello che questo è quello che dice lei no che il messaggio non le era sembrato così tanto strano la polizia comunque riesce a localizzare il telefono di rené che purtroppo però risultava ormai spento ma il luogo in cui era stato spento mette subito tutti in allarme si trattava di un luogo molto noto a sydney chiamato the gap che sarebbe una scogliera altissima a picco sul mare della tasmania un luogo molto noto ai turisti per via della vista mozzafiato ma c'è un altro motivo che rende famoso questo posto ovvero pare che moltissime persone si tolgano la vita gettandosi proprio da questa scogliera in uno dei documentari su questa storia che ho guardato dicono che le persone che si tolgono la vita in questo posto sono circa 50 l'anno pensate che addirittura da un certo punto in poi per qualche anno c'è stato un uomo che si è dato come missione di vita il salvare più persone possibili impedendogli di saltare da questa scogliera il nome di quest'uomo soprannominato per ovvie ragioni l'angelo del the gap e don ricci lui era un veterano di guerra che dal 2009 al 2011 andava su quella scogliera e quando vedeva qualcuno che gli sembrava in difficoltà gli si avvicinava gli chiedeva come stai va tutto bene lo invitava a casa sua e gli offriva una tazza di tè ci chiacchierava ricci racconta di aver aiutato e salvato in soli due anni ben 180 persone alcuni dei quali a distanza di anni andavano ancora a trovarlo per ringraziarlo purtroppo però don ricci è mancato nel 2012 all'età di 85 anni e comunque viene da chiedersi chissà se nel 2013 avrebbe potuto aiutare anche rené comunque le autorità si recano su questa scogliera il the gap e lì trovano la macchina di rené parcheggiata all'interno ci trovano il suo portafoglio una cartolina di san valentino che le aveva mandato braden un foglio con sopra un collage di foto che braden le aveva mandato e un vecchio iphone che rené aveva usato fino a due mesi prima l'iphone che invece usava in quel periodo non è mai stato trovato probabilmente è stato gettato nell'oceano inoltre sul vetro della macchina sul finestrino aveva scritto con il dito sulla condensa braden ti amo di rené però non c'era traccia le autorità avvertono i suoi genitori che li raggiungono immediatamente e insieme allora iniziano a cercarla ovunque lungo la strada nei boschi circostanti e proprio lì in una riserva di nome jacobs ladder lì vicino sua madre teresa trova le sue scarpe trova le sue ballerine nere che indossava proprio quella sera purtroppo però dopo giorni di ricerche via terra via mare con anche diversi sub via aerea con degli elicotteri rené non viene trovata e le autorità arrivano alla tragica conclusione che si sia tolta la vita anche lei come molti buttandosi dalla scogliera e purtroppo amici ancora oggi il suo corpo non è mai stato ritrovato ma teresa e mark all'inizio non accettano questa conclusione teresa per molti anni crede che rené non si sia tolta la vita primo perché secondo lei non l'avrebbe mai fatto secondo perché quando era uscita di casa quel giorno sembrava davvero tranquilla ma poi c'erano diversi elementi strani teresa non si spiegava come mai la sua macchina fosse praticamente vuota ad esclusione di quelle cose che avevano trovato vi ricordate il collage di foto di brayden la cartolina di san valentino solitamente la macchina di sua figlia era piena di vestiti piena di trucchi pieni di cianfrusaglie e insomma le è sembrato molto strano che fosse invece così vuota e poi le scarpe se rené aveva guidato fino lì e parcheggiato alla scogliera per buttarsi come mai le sue scarpe erano state trovate da tutt'altra parte e anche perché cambiarsi farsi capelli riapplicarsi il trucco prima di uscire se sai già di volerti togliere la vita ma se davvero sua figlia si era tolta la vita doveva esserci qualcosa che l'aveva scossa così tanto qualcosa che aveva innescato quella reazione qualcosa doveva essere successo e sicuramente proprio sicuro al cento per cento brayden c'entrava ma per quanto ci provasse teresa non riusciva a mettersi in contatto con lui teresa prova a chiamarlo prova a scrivergli svariati messaggi dicendogli quello che era successo ma lui nulla nessuna risposta allora teresa si rivolge di nuovo a camilla lei è l'unica persona oltre a sua figlia a conoscere quel tizio le chiede quindi di contattarlo al che camilla risponde di smettere di dare la colpa brayden perché anche lui stava male in questa storia e quando teresa le chiede come facesse a saperlo lei risponde che il giorno della scomparsa di rené lui le aveva telefonato da un numero anonimo dicendole che era preoccupato per rené ma le aveva anche detto che da quel momento in poi non avrebbe più voluto parlare con nessuno perché sapeva che qualunque cosa fosse successa avrebbero dato la colpa a lui e le dice anche camilla a teresa che il presunto gesto estremo di rené non aveva nulla a che fare con brayden dice che se davvero rené si era tolta la vita era perché era una persona infelice che pensava costantemente che tutti ce l'avessero con lei una persona violenta che trattava male anche camilla e che avrebbe dovuto farsi aiutare perché non riusciva a controllarsi teresa non riesce a credere alle sue orecchie anche perché amici a questo punto sua figlia era scomparsa da due giorni presumibilmente era morta e camilla sembrava ci tenesse di più a parlarne male che non a capire cosa fosse successo ma una cosa in particolare fa insospettire teresa dice a camilla che comunque la polizia stava esaminando il vecchio iphone di rené trovato nella sua macchina e di conseguenza stavano ricostruendo tutti i vecchi messaggi così magari sarebbero riusciti a capire qualcosa in più e la reazione che camilla ha a questa informazione non è normale perché va letteralmente nel panico e chiede a teresa di riprendere quel telefono cioè di andare alla polizia e chiedergli di ridarglielo indietro teresa presumibilmente le fa un bel gesto dell'ombrello e solo allora inizia a capire la polizia purtroppo però ha difficoltà a sbloccare l'iphone di rené e a me questa parte ha fatto un po sorridere diciamo così perché gli esperti della polizia non sono riusciti a sbloccarlo invece un amico del figlio tredicenne della famiglia malzen uno dei fratelli di rené sì questo ragazzino trova un'app da scaricare che al costo di 100 dollari ti sbloccava qualsiasi dispositivo e effettivamente funziona riescono così a sbloccare l'iphone di rené e allo stesso tempo ottengono i tabulati telefonici del cellulare di rené che dimostrava prima di tutto che il giorno in cui si la vita dal momento in cui braden le aveva scritto ho bisogno di una pausa al momento in cui lei è scomparsa i due si erano scambiati 91 messaggi ma oltre questo scoprono anche che nessuno di quei messaggi proveniva da un cellulare che si trovava nei pressi della prigione in cui diceva di trovarsi braden quei messaggi amici venivano dallo stesso ripetitore da cui venivano mandati i messaggi di camilla inoltre analizzando tutti i messaggi di braden e di camilla trovati nel vecchio iphone di rené le autorità hanno potuto dichiarare con certezza che braden e camilla erano la stessa persona prendiamoci un minuto di tempo amici per riflettere su questa cosa non so se alcuni di voi l'avevano già capito ma ripetiamolo insieme braden e camilla erano la stessa persona cioè non esisteva nessun braden ok dovremmo riguardare il video fino a questo punto tenendo in mente questa informazione ma ovviamente non lo faremo riflettiamo però un attimo su tutte le cose che rené e braden si sono detti e scambiati ma al posto di braden nella nostra testa mettiamoci camilla ok era geloso di tutti di chiunque si avvicinasse a rené non voleva che frequentasse nessun uomo la voleva solamente per sé infatti se vi ricordate camilla l'aveva anche convinta a lasciare il suo primo fidanzato braden vi ricordate aveva passato un mese senza scrivere a rené perché a detta sua doveva stare bravo per l'udienza per poter essere rilasciato e guarda caso quello era proprio lo stesso mese in cui camilla era andata negli stati uniti e quindi non aveva potuto sentire rené braden sapeva sempre dove fosse rené quando lei gli diceva sono rimasta tutto il giorno a casa invece magari era andata in palestra o era uscita con le sue amiche braden lo sapeva perché braden in realtà era camilla ma soprattutto la cosa più orribile di tutte è che braden svariate volte aveva chiesto e ottenuto foto e video di rené in momenti intimi mettiamola così pensate che tra i messaggi ritrovati ce n'era uno in cui braden consigliava a rené di fare sesso con camilla messaggio a cui rené aveva risposto con un secco no le autorità basandosi sui tabulati telefonici hanno ricostruito quello che probabilmente era successo il giorno in cui rené si era tolta la vita praticamente vi ricordate che rené aveva finalmente tagliato camilla fuori dalla sua vita definitivamente mandandole quel messaggio in cui appunto le diceva di non voler più essere sua amica ecco quel giorno quindi camilla aveva deciso di fargliela pagare di farla soffrire e aveva deciso quindi che braden l'avrebbe scaricata usando il cellulare da cui le scriveva quando era braden le aveva quindi scritto ho bisogno di una pausa e di questo messaggio conosciamo il contenuto perché rené lo aveva mostrato ad un suo collega quando lo aveva ricevuto sappiamo che da lì in avanti i due si sono scambiati ben 91 messaggi ma purtroppo amici non conosciamo il contenuto conosciamo solo quando sono stati mandati sappiamo che rené era tornata a casa si era cambiata e aveva continuato a mandare messaggi a braden poi era uscita e aveva iniziato a guidare verso la scogliera alle 17 20 verso le 17 40 era arrivata alla scogliera probabilmente aveva parcheggiato la macchina e aveva iniziato a camminare mandando altri messaggi a braden che ancora non aveva risposto alle 17 45 braden risponde manda dei messaggi a cui rené risponde con altri tre messaggi ed è a quel punto che manda i due messaggi da dio quello a sua mamma e quello a camilla subito dopo riceve un altro messaggio da braden a cui risponde due minuti dopo prima di togliersi le scarpe di tornare alla scogliera e di gettarsi di sotto insieme al suo cellulare braden aveva risposto a quell'ultimo messaggio inviato da rené ma ormai era troppo tardi ora dalle analisi sui tabulati telefonici le autorità scoprono anche delle altre cose molto interessanti che ci faranno porre molte domande subito dopo il messaggio di braden continuo a chiamarlo braden per non confondervi amici ma spero che sia chiaro che dietro braden c'era camilla ok quindi dopo il messaggio di braden in cui le diceva di volersi prendere una pausa viene fuori che rené aveva fatto una serie di telefonate la prima l'aveva fatta alla prigione in cui braden diceva di essere e la seconda l'aveva fatta alla scuola che lui diceva di aver frequentato e in queste telefonate rené chiedeva se esistesse nelle loro strutture un ragazzo di nome braden spiteri e in entrambi i casi le avevano risposto ovviamente di no non esiste nessuno con quel nome quindi viene da chiedersi ma quindi rené aveva capito probabilmente sì aveva capito che non esisteva nessun braden e probabilmente aveva capito anche che braden in realtà fosse la sua amica camilla dato che lei era l'unica che riusciva ad averci contatti ad aver contatti col suo avvocato eccetera eccetera e se rené aveva capito mi domando esattamente che cosa aveva scritto a camilla in quell'ultimo messaggio era davvero un messaggio di addio come quello che aveva mandato a sua madre o le aveva scritto qualcos'altro teresa infatti glielo chiede a camilla le dice fammi vedere l'ultimo messaggio che mia figlia te ha mandato ma lei risponde di non averlo di averlo cancellato per sbaglio che coincidenza pazzesca mettendo insieme tutti i pezzi era chiaro col senno di poi cos'era successo no camilla era attratta da rené non voglio dire innamorata perché l'amore è decisamente un'altra cosa ma provava interesse nei confronti di rené e aveva provato in tutti i modi ad avere una relazione con lei sono state trovate anche delle lettere d'amore dedicate a rené ma lei era stata chiara a lei piacevano gli uomini e non voleva stare con lei in quel senso e così consumata dalla gelosia e non riuscendo più a resistere a quell'emozione tanto logorante aveva creato brayden intrappolando l'amica in una relazione tossica da cui era difficile uscire forse rené si era tolta la vita per per questo cioè perché aveva capito aveva scoperto la verità e la verità era troppo dolorosa ammetto amici di aver pensato per un secondo che ad ucciderla sia stata camilla onestamente io ci ho pensato specifico che questa è una speculazione non è così nel senso che le autorità hanno determinato che non è successo questo quindi prendetemi con le pinze ma la macchina vuota piena solo di cose di brayden no la scritta sul vetro ti amo brayden perché fare queste cose dal momento in cui aveva scoperto che brayden non esisteva potrebbe sembrare quasi una scena del crimine creata d'arte per far pensare ad un suicidio no però come già detto non cioè pare non sia così e allo stesso tempo ho pensato che magari rené aveva scritto ti amo brayden nel senso che era innamorata di brayden ma del brayden che si era creata nella sua testa in quegli anni e qua vorrei parlare di questo un attimo del catfish penso che tutti sappiate che lo spacciarsi per qualcun altro soprattutto su internet col fine di adescare qualcuno ecco si definisce catfish il catfish è qualcosa di orribile e devastante per tanti motivi è letteralmente una truffa amorosa dopo essere stata vittima di catfish ti senti stupida parlo al femminile solo perché penso a questo caso in particolare ma ovviamente ne cadono vittime sia le donne che gli uomini ti senti stupida ti senti vulnerabile ti senti letteralmente violata ma soprattutto come per esempio in questo caso cioè tu hai passato anni ad amare una persona ad immaginarti un futuro con quella persona hai investito tempo lacrime sogni speranza insomma pensando ad una persona per poi scoprire improvvisamente non solo che quella persona non esiste ma in questo caso addirittura che era la tua migliore amica cioè come ci si riprende da un trauma del genere deve essere estremamente doloroso amici questa vicenda tra l'altro mi ha ricordato in modo sorprendente la storia di mark caltagirone come sempre io vabbè vi consiglio la saga su mark caltagirone di iris babilonia perché merita e noterete tantissime analogie e tra l'altro lei parla in modo molto approfondito del catfish è davvero molto interessante se volete appunto un approfondimento più più esteso ecco di quello che avete trovato in questo video comunque tornando al caso in seguito a queste scioccanti scoperte camilla viene ricoverata in ospedale il 26 agosto perché la famiglia temeva che avrebbe tentato anche lei l'estremo gesto e viene dimessa qualche giorno dopo il 30 di agosto il 23 settembre la polizia perquisisce casa di camilla in cerca del telefono e della sim che usava per spacciarsi per braden ma purtroppo non vengono mai trovati e quando analizzano il telefono di camilla scoprono vabbè questa cosa è assurda scoprono che tantissimi messaggi erano stati eliminati compresi gli ultimi messaggi scambiati con renè prima della sua morte e a quanto pare quei messaggi erano andati persi definitivamente l'operatore telefonico che utilizzava camilla spiega che i messaggi eliminati potevano essere recuperati su richiesta delle autorità ovviamente ma solo entro cinque giorni dall'eliminazione dopodiché si perdevano nell'etere non lo so io non ho idea di come funzioni ma non lo so nei casi americani solitamente riescono a recuperare qualsiasi cosa messaggi eliminati da mesi cronologia di ricerche effettuate anche da incognito non lo so forse in australia non funziona così non ho idea comunque è stato per i genitori di renè estremamente frustrante tutto questo comunque camilla che cosa dice camilla di tutto ciò camilla ammette di essersi spacciata per brayden ma c'è un grosso ma non del tutto vi spiego quello che dice lei alla polizia è che prima di partire per gli stati uniti per un mese vi ricordate effettivamente lei aveva mandato dei messaggi a renè spacciandosi per brayden ma lo aveva fatto perché renè glielo aveva chiesto e quando il detective le chiede scusa ma che senso ha cioè perché la tua amica dovrebbe chiederti una roba del genere lei aveva risposto a non lo so lei me lo ha chiesto e io l'ho fatto perché ero sua amica ma la parte più frustrante arriva adesso perché il catfish in sé non è considerato un reato lo diventa se è finalizzato a truffare qualcuno di soldi però non di emozioni cioè se camilla si fosse spacciata per brayden per adescare renè per farla innamorare e poi per convincerla darle dei soldi allora si sarebbe stata accusata di truffa o estorsione allo stesso modo se lo avesse fatto col fine di stalkerarla o molestarla idem sarebbe stata accusata di stalking e molestie ma il catfish fine a se stesso non rientra in nessun reato in australia cioè in in italia bene o male abbiamo il reato di sostituzione di persona che dovrebbe tutelare anche in caso di catfish anche se non lo so esattamente nel senso che penso sia una di quelle cose che ha tantissime sfumature e dato che non sono un avvocato mi atterrò a quello che è successo in questo caso specifico non essendo stato commesso nessun reato quale estorsione o truffa o stalking anche se vabbè su quest'ultima avrei da ridire ma le autorità determinano che non potevano incriminare camilla di nulla ci sarebbe però il reato di istigazione al suicidio renè si è tolta la vita di conseguenza a quello che ha fatto camilla ma anche lì pare che sia molto difficile dimostrare l'istigazione al suicidio nel documentario spiegano che si dovrebbero avere dei messaggi molto espliciti cioè camilla avrebbe dovuto chiedere esplicitamente a renè di togliersi la vita cioè avrebbe dovuto proprio scriverle utility e invece in questo modo non non è così o comunque non si sa dato che tanti messaggi sono andati persi fatto sta amici che alla fine camilla non è stata accusata neanche di questo ma i genitori di renè volevano comunque delle risposte passano diversi anni e camilla alla fine accetta un patteggiamento praticamente si sarebbe sottoposta e resa disponibile ad un'inchiesta in cambio dell'immunità le garantiscono l'immunità amici e questo significa che qualsiasi cosa avesse detto non sarebbe mai potuta essere usata contro di lei a questo punto siamo nel 2020 sono passati sette anni e nel frattempo camilla si era sposata viveva una vita normale se non sbaglio aveva anche messo su famiglia fatto dei figli i genitori di renè sperano quindi che dato che era passato molto tempo è data l'immunità che la proteggeva da qualsiasi cosa sperano che perlomeno a questo punto dica finalmente la verità così da almeno regalare un po di pace a quella famiglia che chiedeva solamente la verità volevano davvero solo avere delle risposte volevano che ammettesse di essersi spacciata per brayden per tutto il tempo volevano che ammettesse di essere stata ossessionata da renè e volevano che rivelasse la verità sugli ultimi messaggi che si era scambiata con renè ma camilla sapete che cosa risponde sette anni per pensarci e questo è quello che scegli di raccontare dice che si è spacciata per brayden ma lo ha fatto perché lei e renè avevano una relazione lei e renè stavano insieme ma sapevano che le loro famiglie non l'avrebbero mai accettato e allora su richiesta di renè camilla aveva creato brayden così che potessero sentirsi tutti i momenti senza destare sospetti racconta che persino le foto di brayden erano state scelte da renè sette anni amici e non è riuscita a uscirsene con una storia migliore di questa le prove però ci mettono due nanosecondi a smontare questo mucchio di bugie quello che diceva camilla non aveva nessun senso prima di tutto i genitori di renè smentiscono nel senso che chiariscono che se mai renè avesse voluto stare con camilla o con un'altra donna a loro non sarebbe cambiato assolutamente nulla come normale che sia ma oltre questo c'erano tantissime altre prove tra le migliaia di messaggi che renè e brayden si erano scambiati nel tempo i motivi principali per cui renè e brayden litigavano e litigavano per giorni e giorni e giorni erano proprio il fatto che brayden non si faceva mai vedere renè gli mandava foto ma lui non ricambiava mai e lei voleva vederlo in faccia voleva più foto sue oppure renè voleva la chiave del suo magazzino con le sue cose dentro ma lui appunto non voleva tutti questi messaggi tra l'altro sono stati trovati nel vecchio iphone per questo noi sappiamo il contenuto di questi messaggi o ancora renè aveva cercato e parlato con diversi fotografi che facessero le foto al loro matrimonio ma soprattutto non dimentichiamoci che il giorno in cui si era tolta la vita aveva telefonato alla prigione e alla scuola chiedendo se esistesse brayden spiteri cioè che senso avrebbe avuto tutto questo se renè come diceva camilla fosse stata già a conoscenza del fatto che brayden era camilla cioè non che motivo avrebbe avuto per interrompere la sua amicizia con camilla ma nello stesso tempo continuare la relazione con brayden se davvero sapeva che camilla e brayden erano la stessa persona dai camilla ma c'è un po di fantasia in totale renè e brayden si erano scambiati più di 11.000 messaggi su alcuni siti c'è scritto addirittura più di 30.000 sono un po tanti da mandare ad una persona che non esiste chiedendo cose che sai già di non poter ottenere cioè no davvero che senso avrebbe avuto inoltre renè tantissime volte aveva parlato con brayden proprio del fatto che i loro sentimenti erano così forti nonostante non si fossero mai visti di persona cioè erano discorsi che faceva continuamente i detective che hanno portato avanti questa inchiesta infatti hanno proprio determinato e messo per riscritto che la storia di camilla era l'insieme di un mucchio di bugie l'hanno proprio definita in questo modo a pack of lies come detto prima infatti sottolineando anche la sua mancanza di empatia rispetto a quello che aveva fatto e anche nei confronti della famiglia di renè il fatto che comunque le bugie di camilla siano state riconosciute dalle autorità seppure rimaste impunite ha dato un qualche senso di conforto alla famiglia che però da quel momento ha sempre lottato per cambiare le leggi e per rendere il catfish un reato a tutti gli effetti un'ultima cosa che voglio raccontarvi è non so se ve lo siate chiesti ad un certo punto ma chi era brayden cioè nel senso chi era l'uomo della foto la foto insomma l'unica foto della faccia di brayden quello che effettivamente era insieme a camilla ebbene quell'uomo quel ragazzo non si chiama brayden ma si chiama cameron lang e aveva scoperto tutta questa storia cioè aveva scoperto che la sua foto era stata usata per adescare e raggirare la povera renè tramite un suo amico che gli aveva girato un articolo in cui appunto aveva visto la sua faccia sua foto cameron allora aveva deciso di mettersi in contatto con la famiglia di renè che all'inizio era ovviamente restia ad incontrarlo per ovvi motivi ormai associavano la sua faccia quella a quella brutta storia ma alla fine si sono incontrati ho letto che sono in contatto ancora oggi cameron racconta di non conoscere né camilla né renè e non ricorda neanche di aver mai scattato quella foto insieme a camilla ma dato che in quella foto era molto giovane pensa che sia stata scattata in qualche locale una sera insomma sarà capitato a tutti di fare foto con sconosciuti che poi non rivedi mai più ad oggi come già detto camilla è libera ha una famiglia e i genitori di renè continuano a lottare affinché la legge cambi così che quello che è successo a renè non succeda più a nessun altro le truffe amorose online amici sono molto comuni per spararvi lì un po di numeri che fanno sempre effetto ho letto che secondo le statistiche condotte nel 2021 le truffe romantiche in italia sono cresciute del 118 per cento rispetto all'anno precedente e negli ultimi anni pare che facebook abbia chiuso circa 3 miliardi di profili falsi il 43 per cento legato proprio a questo tipo di reati quindi concludo questo video amici dicendovi come al solito di prendervi cura di voi di stare attenti so che per alcuni di voi può sembrare scontato ma state attenti alla gente che vi scrive online e soprattutto che vi chiede cose ma che allo stesso tempo rimane vago e non si fa vedere a poche foto solitamente se il vostro sesto senso vi parla e vi mette sul chi va là solitamente ha ragione quindi ascoltatelo queste amici sono tutte le informazioni che avevo su questo caso come al solito io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video ciao